Il progetto dell'impianto fotovoltaico offshore di tipo galleggiante a largo della costa ortonese spacca definitivamente la maggioranza ed il sindaco Leo Castiglione rassegna le dimissioni a far trabocare il vaso la scelta dei tre consiglieri di maggioranza Sorgetti, Rabottini e Cocco di presentare a titolo personale una osservazione al progetto, tradendo, come ha detto il sindaco in conferenza stampa, tradendo nei fatti e negli atti l'impegno preso in consiglio comunale. Sindaco di Urtona Leo Castiglione, una comunicazione a sorpresa questa mattina in questa conferenza stampa? Una presa d'atto di quanto accaduto perché oggi non ho più la maggioranza che a giugno 2022 era stata eletta dalla città. È accaduto che in consiglio comunale mi era stato dato il mandato di presentare osservazioni alla richiesta di concessione dei maniari maritti, ma per la piattaforma offshore del fotovoltaico. Questo impegno è stato tradito da tre consiglieri che invece hanno deciso di presentare a titolo personale un'osservazione che di fatto ha sfiduciato la mia persona, il sindaco che invece in consiglio comunale era stato impegnato a presentare queste osservazioni, anche da questi tre consiglieri comunali. Io credo che bisogna amministrare e non vivacchiare alla giornata. Urtona non può perdere tempo, ci sono tanti appuntamenti importanti, non sto qui ad elencarli e la mia città non merita una maggioranza che destabilizza anche tutto il lavoro di cui la città ha bisogno. Bisogna avere rispetto dei cittadini e io in tutta serenità e senso di responsabilità annuncio le mie dimissioni. Quindi questa è stata una scelta, sindaco, di responsabilità da parte sua? Certo, ho sempre detto ai miei consiglieri e assessori che non sono mai stato legato alla poltrona. Noi abbiamo questo compito protempore, abbiamo questa delega da parte della città che la dobbiamo onorare ogni giorno con il lavoro. In tutta serenità e responsabilità oggi queste condizioni, il clima che si respirava e che c'era nella precedente amministrazione oggi non c'è più e quest'ultimo episodio è l'ultimo di altri episodi che hanno creato difficoltà al mio lavoro e al lavoro dell'amministrazione mancando di rispetto anche agli otto consiglieri che invece hanno dimostrato alla mia persona sempre totale fiducia.